Senta Bernardo, lei condanna le parole di Bastoni, al di là del fatto che poi siate antifascisti, eccetera, le condanna? Io ho già detto che noi dobbiamo pensare ai problemi dei cittadini, i miei confronti tutti i giorni sono con i cittadini milanesi, che mi rappresentano i loro problemi che sono importanti, gravi e seri, non solo di solitudine, ma di occupazione e di sicurezza. Io gli estremismi li condanno sempre, ho già detto che sono antifascista, ma soprattutto la storia personale della mia famiglia da più di 70 anni, quindi la fine della guerra è prima e dopo ben rappresenta quello che penso. Quindi lei non accetterà i voti di queste persone che appartengono a queste parti e politiche estreme? Come ho già detto ho già risposto, quindi... Li accetto o no, solo questo? Ci occupiamo dei problemi della città, mi sembrano più importanti che pensare ai voti. Io come ho già detto gli estremismi non li accetto.